Sabato 3 marzo, Glass Discotech anticipa e festeggia la donna. In anteprima assoluta, ospite speciale dalla casa del Grande Fratello 2012, l'inquilino dal corpo statuario. Il più sexy e desiderato, Rudolf. Sabato 3 marzo, Glass chiama Grande Fratello, Rudolf risponde. Per l'occasione coccoliamo le donne e dentro la mezzanotte saranno nostri ospiti. Glass Discotech, pura avanguardia di moda e spettacolo. Diretto da Maurizio Gagliardi, Glass Discotech, Via Nazionale Adriatica Nord, Pescara.